Il mercoledì di Coppa lascia senza dubbio stanchezze e tossine nelle gambe dei blu cerchiati che soffrono sin dall'inizio il pressing e il raddoppio delle marcature puntualmente operato dai padroni di casa. Tra gli ospiti le solite assenze forzate di Vialli, Serezo e Vierkovo. Il primo tempo scorre via tra gli sbadigli dei 20.000 spettatori. La ripresa offre senz'altro qualche spunto in più. Melli, Osio e lo svedese Brolin tengono costantemente sotto pressione la retroguardia Sampdoriana. Mancini, anche lui sotto tono e presto affaticato, prova ogni tanto un colpa sensazione ma la sua squadra non è nella giornata migliore.